E devi crearti un sistema strutturato per rispristinare sempre questa energia emozionale. La commodity, cioè la materia prima più importante della vita, non è l'oro, anche se con tutto il denaro che stampano non si sa più che cazzo è che vale nella società. Non è l'acqua, anche se si combatteranno guerre per l'acqua, non è l'energia, ma la commodity più importante è l'entusiasmo, perché quando hai l'entusiasmo puoi sempre ripartire e costruire grandi imprese. Quando perdi la polvere magica rifai le stesse azioni che facevi dieci anni fa, cazzo non poteranno più. Ma non è il mondo che cambia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.